Mentre tre consiglieri di maggioranza dissidenti, Andrea Gerosolimo, Mario Rivieri e Luciano Monticelli, spaccano la maggioranza e si ritirano sul Gran Sasso a pranzo e motiveranno la loro assenza dal Consiglio in conferenza stampa domani, il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, nega la rottura e ribadisce che tutto va bene. Non mi pare che il Partito Democratico sia spaccato, anzi assolutamente, più unito che mai. Dieci consiglieri su undici presenti, mi sembra che c'è una compattezza assoluta. I soldi sono pochi, i Baskers contro il finanziamento dell'ISA, chi vince? No, non è contro il finanziamento dell'ISA, è che tutte le istituzioni culturali, artistiche, musicali, che fanno pregio e sono a bella mozza, la nostra regione Abruzza, che sono 14, devono trovare spazio in modo tale che possa aver garantito anche il contributo del fondo unico dello spettacolo. La maggioranza non c'è più, oggi D'Alfonso è rimasto solo, è inutile continuare così, si dimetta, lo afferma il presidente regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, dopo che tre consiglieri regionali di maggioranza hanno disertato i lavori di commissione e consiglio regionale. Dopo solo un anno, incalza il presidente regionale di Forza Italia, la maggioranza di centro-sinistra si è sciolta come neve al sole. Il disordine che regna in giunta in consiglio non ha precedenti. Sono diversi consigli che va così, che devono iniziare alle 11, poi ci sono problemi, ritardi, confusione, mancata condivisione spesso in maggioranza. Oggi mancano tre consiglieri regionali di maggioranza, immagino per un problema di condivisione, perché qui si stanno facendo delle cose assolutamente al di fuori di quello che era il programma elettorale presentato agli abruzzesi, e poi c'è qualche consigliere che di questo giustamente si duole in maggioranza, primaria e secondaria. Per quanto riguarda noi, noi facciamo il nostro lavoro di opposizione, di vigilanza, di consiglio, abbiamo presentato emendamenti sugli argomenti di oggi, in particolare sulle province. Stiamo a vedere, però bisogna capire qual è la situazione, se c'è ancora la maggioranza eletta dagli abruzzesi, se ce n'è un'altra o se addirittura non c'è più. Quanto durerà ad Alfonso? Arriverà a fine mandato? A questo punto quali potrebbero essere le previsioni? No, io non mi sento di fare previsioni, intanto io vorrei sperare che si comincia a recuperare il tempo perduto, perché quello degli ultimi mesi è un tempo perduto, con grande lentezza, con grande confusione dal punto di vista politico e amministrativo. È stato un brutto anno per l'Abruzzo, o questo governo regionale cambia marcia, oppure sarebbe bene che ce ne fosse un altro.